Anticipazioni Tempesta d'amore Al 23 12, William scopre la verità su Rebecca Nelle puntate in onda la settimana si rompono gli equilibri, scopriamo cosa succede. Tempesta d'amore vi aspetta ogni giorno alle ore 20 su Rete 4, nelle prossime puntate in onda la prossima settimana accade di tutto. Nel nostro amato hotel ci saranno nuovi arrivi e purtroppo William scopre la verità su Ella e Rebecca, scopriamo cosa succede. William scopre la bugia di Rebecca?. Ella e William trascorrono la loro prima notte d'amore arrivando in ritardo il giorno seguente al lavoro. Il ragazzo chiede Anis di sostituirlo volendo fare un picnic con la fidanzata, va in cucina e incontra Rebecca sconvolta. Ella trova le trascrizioni dei messaggi tra M.R. e Miss Vrong rimanendoci male credendo che i rapporti erano interrotti. William entra nella stanza di Rebecca trovando messaggi che loro due si sono scambiati in passato realizzando che le due ragazze li hanno sempre mentito, video. Rebecca si dichiara a William. Nelle prossime settimane ci saranno degli stravolgimenti nel nostro albergo, come sappiamo Ella ha amato William fin da loro primo incontro tanto che la ragazza decide di avere la sua prima volta con lui. Da qui le cose precipitano dato che il nostro protagonista scopre la verità su M.R. Vrong, ma dopo una serata in birreria Rebecca ubriaca confessa il suo amore al fidanzato della sua amica. Il ragazzo si sente a disagio perché capisce che ciò potrebbe dividere le due amiche per sempre e decide di tenere per sé la verità Peccato che presto si scoprirà tutto. Nuovi arrivi in hotel. Beatrice e Friederich si sposano e la figlia si aggiudica il buchè della sposa, in hotel arriva Boris il nipote di Charlotte. La donna vorrebbe diventare la tutrice del fratello ma viene a sapere che chi ha la sua custodia è Kistof Salfed ma Werner si oppone. Boris teme che sia andato a giocare i soldi al casino o i soldi avuti da Salfed. Boris chiama il padre dicendoli di portare a casa immediatamente l'uomo intanto in hotel arriva Kistof che si offre subito di comprare le quote di Adrian. Susan intanto promette ad Andrè che fa arrivare un critico gastronomico per pubblicizzare la cucina dell'albergo. Anticipazioni tedesche, nozze lampo per Melli. Nelle puntate che andranno in onda in Germania nei prossimi mesi ci sarà un vero colpo di scena che riguarda un personaggio molto amato. Melli delusa dal suo storico fidanzato conosce un nuovo uomo e dopo poche settimane decide di sposarlo, video. Una vera follia per Melli, il suo nuovo amore Vania è il figlio di un capitano daereo che venne salvato nell'incidente aereo dove muori Sabrina la moglie di Nils. Un vero colpo di scena rimanete con noi per ulteriori dettagli con le nostre anticipazioni settimanali.